Covid-19 in Sicilia 5.497 nuovi casi, 25 decesse, seracusa, contagi stabili, 521. Sono 5.947 nuovi casi registrati a fronte di 33.961 tamponi processati. Il giorno precedente le nuove positive erano 5.528, il tasso di positività sale al 16,2%, ieri era al 16%. La regione è al terzo posto per contagi, gli attuali positivi sono a 223.672 con un incremento di 1.251 casi, i guariti sono a 5.380, mentre le vittime sono a 25 e portano il totale dei decesse a 9.721. Nell'ambito ospedaliero sono 933 ricoverati, gli stessi casi rispetto a ieri, in trepia intensiva sono 65, un caso in più rispetto a ieri. I dati del contagio nelle singole province, Palermo 1697, Catania 922, Messina 855, Agrigento 830, Trapani 721, Ragusa e Siracusa 521, Caltanissetta 321, Enna 268.